Voi non andate via perché qua sul divano stiamo noi ad aspettarvi, oh ma c'è Tile Saverio! Riengami sul divano di House of Gag, questa sera siamo in tre perché la puntata Stretti Stetti sul divano, abbiamo ospite il nostro Saverio e... Carlo, oh ma lo sai che ti hanno mentito, cioè? Te devo dire una cosa importante ma ti scioccherà. Te lo dico non ci crederai, sì? Te lo dico non ci crede neanche lui. Ho capito dovrebbe, no? E me la dici? È un maschio. No! Ma mi hai tenuto nascosto tutto questo Saverio? È un maschio. Come hai fatto capirlo? Ho visto la teoria alla bibi e la facevo in piedi. Eh ma non hai detto eh? Ah! Te l'ho detto ma che lui l'ha capito ancora. Guarda, vuoi essere sicuro che è maschio? Guarda qui. Eh! Eh! Oh finalmente è venuto a scendere! Ciao Saverio, che te ne vado? Ciao Saverio. È un piacere riconoscerti. Fino a un attimo fa ci stavo una e ci volevo anche provare. Ti dico la parola. Come stai? Facciamo fin di ci conosciamo. Adesso cancelliamo quello che è successo prima. Da dove vieni? Da la provincia del Kentucky. Dove è esattamente? Zona Expo. Arluno. Arluno. A me piace che è la provincia del Kentucky. È come se il Kentucky fosse una città e una provincia. È uno stato il Kentucky! No, no, no. Ci sei mai stato? Ci sei mai stato? Ci sei mai stato? Neanche lui c'è mai stato. Guardi il Kentucky intendo. Senti no? Il gioco di parole. Questo è un genio. È un genio del male. Eh, senti, lui ha una passione che ha la macchina a trazione posteriore. Anch'io! Voi dove avete più macchina tamarriche? Anch'io! Sai che macchina c'è questo qui? C'è una Mustang. Ok? A GPL. Cioè, è un'operazione. Chi sta solo se la alzi su dietro così. È un'operazione. Lui invece c'è la MaxXX8 che è... Ma non esiste. Non esiste. È un'operazione rotativo. Pensa che non ha un limite di giri con la macchina. Gli viene imposto da... Sì. Intanto che si sa persi tutto il pubblico femminile. Vogliamo almeno dire che è il momento del test fedeltà. Velocissimi. Vai, velocissimo! voglio la classifica la maglietta devi essere all'altezza voglio la classifica ufficiale proprio stimata da un po' quali sono le prime 5 cause di Morton Kentucky il tappeto elastico il buon party e una piscina senza acqua no i matrimoni e poi c'è la danza non me lo ricordo più basta ecco i primi 5 e invece no c'ero io la domanda difficile da dove vengono sempre casualmente ma estremamente casualmente per la maggior parte dei casi i nostri ospiti internazionali sulla Terra Rail Line dall'Egitto a proposito ci sono tanti messaggi che ci hanno inviato proprio che parlano bene della Terra Rail Lines dopo li leggiamo si si tipo e beh tipo dice da quando c'è la Terra Rail Lines mi piace così tanto Terra Rail Lines dopo di te che ha guardato un posto al sole che ho messo un posto al sole allora ragazzi siamo lunghissimi andiamo un attimo ancora con i video e poi torniamo subito qua come sa bene cioè rimaniamo sempre qua commentiamo e torniamo vai dai 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 ti capito allora adesso che è maschio adesso che è maschio Saverio ehi Bartic 5 sa bella bella lì prof cos'ha lanciato è una pallina di sasso di gesso di gesso si tutto bene dai che ci sei è però è però hai fatto il figo hai fatto il figo sei arrivato lungo guarda è una bestia è un sasso quantini ha fatti 30 ma di che cosa era fatta di acqua chi di paperella ma di che cosa fatta anche sì sì anche di che cosa era fatta senti se fare queste battute sulla droga non è il momento c'è anche il confine che ci guarda e lui te la suggerisce ah saluta come si chiama l'anno l'abbiamo detto come si chiama il bambino l'abbiamo detto Valentina mia moglie e in arrivo Francesco ah oh il numero in mano Francesco chi l'ha detto eh Francesco Hilary Christian Chanel se tutti i nomi romani sei incredibile e non mi ricordo l'ultimo che è nato e boh sarà obelismus sì qualcosa bene che al frattempo vi continuiamo a far vedere delle tecniche alternative per fare i bidet tu la devi smettere con questo bidet sei traumatizzato hai vissuto a Londra e non l'avevi come? hai vissuto a Londra e non l'avevi i bidet eh a Londra non ce l'ho quindi? nella mia casa di Londra a differenza della mia casa di Parigi ma casa è come di Ziano Ferro mentre invece ad Aspen per esempio sì e a Arluno Arluno ce l'ho c'è il bidet sì ma comunque guarda che dove capiti ricordacelo a Arluno sì però ti ho chiesto il paese non il civico al sei senti la musichetta sotto con il gelo io la tu penso io sì ma senti una cosa Arluno molta gente ci saranno guardando oh Arluno ma esiste lì dove è super giù nord di Milano vicino alla fiera vicino alla fiera bravo bravo io ho l'amica saluto Fran di Arluno senti ma Fran ma è famosa anche a livello turistico no? sì sì c'è un movimento Arluno attenzione attenzione quarta causa di morte ah no era solo un tentativo guarda eccola eccola è la spocchia cosa vuol dire la spocchia che ha guarda è il gabibo sì lo stavo dicendo io ma per favore è la gabibba e questa è la sensualità dov'è? sensualità non l'hanno portata davanti e la cosa ma come fai a cadere ma i calzini ho capito ma ho capito ma hai fatto una spaccata cioè una spaccata ma lei cadete giù basso giù basso giù basso ma lì l'alcol comunque ma Romero sì c'è qualcosa dietro ma io te lo mi accetti dai cori eccolo guardate le tende come è successo? si è spaventato da sola ma cosa hai fatto? eh il mignolo ma contro cosa? eh si è storto il mignolo si è stortato il mignolo ma no secondo me ha picchiato per terra il mignolo il mignolo è maledetto ma con tanti bei posti e festi che c'è guarda 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 le tradizioni guarda questo ogni anno cade a terra per tradizione ma sono tutti attaccati a 11 ragazzi ma per sfortuna c'è a cadere beh però era vestito bene sì l'attrezzatura c'era questo un po' meno erano io e la moglie scusa ma hai messo tu l'effetto di bianco e nero vero? sì sì non è uno scherzo di antidelli no 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 l'ho preso dall'istituto Lucio questo privato anche perché intanto i giovani ballini là si divertono sulle rime delle gatte e i giovani ballini là si allenano a tuffo in verticale il duce apprezza sempre l'atterraggio in verticale come questo questo è diventato a colori mentre scendeva si è contemporaneizzato questa è diventata singolmente scendeva ma cosa volevate fare scusa? guarda che materizzate quando si accorgono del disastro?